Dottor Albani, facciamo un po' di chiarezza perché è uscito il nuovo DPCM in nottata, però l'Abruzzo non è ancora stato inserito ufficialmente in nessuna delle tre zone perché si attendono ovviamente che vengano esaminati i nuovi dati che la Regione ha inviato al Ministero. Sì esatto, noi abbiamo inviato ieri una tarda mattinata i dati al Ministero della Salute, speriamo che vengano appunto accolti e soprattutto elaborati perché questi nuovi dati consentirebbero alla Regione Abruzzo di essere inserita nella fascia più bassa. Stiamo lavorando in queste ore proprio tra Regione, contatti continui tra Regione e Ministero della Salute per far sì che questi dati vengano elaborati e inseriti affinché l'Abruzzo possa essere di nuovo, cioè sia inserito nella fascia più bassa. Quando si avrà l'ufficialità? Credo non prima di 48-72 ore. Quindi in questi due giorni o poco più che mancherebbero all'ufficialità, cosa potrebbe accadere? E questo stiamo aspettando appunto indicazioni da parte del Ministero della Salute perché è il Ministero della Salute che in base a una serie di parametri assegna il codice di colore alla Regione. Se dovesse essere inserita la Regione Abruzzo nella fascia verde ovviamente si avrebbe un lockdown molto molto leggero rispetto ad altre regioni. Questo secondo lei che cosa comporterebbe poi ai fini del controllo del contagio? Sì, assolutamente sì. Sarebbe una situazione più soft. Questo consentirebbe da una parte ugualmente di limitare la diffusione del virus all'interno della popolazione abruzzese. Dall'altro di mantenere aperte le attività lavorative e quindi questo unirebbe da una parte appunto la possibilità di controllo e la possibilità di sostenere le attività economiche. Dottor Albani, ad oggi qual è la situazione un po' in generale per quanto riguarda il Covid nella nostra Regione? Siamo all'esterno del pronto soccorso dell'ospedale di Pescara. Un po' in generale c'è una saturazione dei posti letto o è una situazione diciamo importante ma non critica? È sicuramente una situazione importante perché il numero alto di contagi che sono avvenuti in questi giorni determina una pressione elevata a livello di pronto soccorso e quindi delle strutture sanitarie. Ho fatto in questi giorni una serie di appelli e ancora oggi lo faccio, ringrazio anzi la possibilità che mi è data, di fare appunto un appello alla popolazione di rivolgersi ai pronto soccorsi esclusivamente per patologie importanti. E tutto ciò che è riconducibile all'attività ambulatoriale, utilizzare canali alternativi quali i medici di medicina generale, i pediatri liberi scelte, i consultori, affinché i pronto soccorso siano sgravati da questa attività e possono concentrarsi prevalentemente sui malati Covid.